Polemiche per il nuovo ospedale che sarà realizzato tra Monopoli e Fasano. Secondo il consigliere regionale fasanese di Forza Italia Antonio Scianaro, ad oggi il comune di Monopoli non ha ancora approvato la variante urbanistica e proceduto agli espropri. Negli uffici tecnici della regione sono intervenuti presso l'amministrazione comunale per sollecitarla in tal senso. Inevitabile il disappunto e la dura replica del sindaco di Monopoli Emilio Romani che spiega che è la regione Puglia che non ha ancora deciso l'area e la variante. Ma non so, il consigliere regionale mi ha fatto una telefonata la settimana scorsa perché voleva capire come stava la situazione. Io sono anche contento che ognuno vuole cercare di capire le cose, magari sarebbe importante capirle sempre, non solo in occasione delle campagne elettorali. In realtà Monopoli non sta bloccando proprio niente, quindi credo che quello che ho provato a spiegare al consigliere regionale non sia arrivato a destinazione. Perché credo che la regione ha pubblicato un bando che si è chiuso per conferire in carico sulla progettazione, credo preliminare e definitiva, di questo studio di fattibilità. Dopodiché noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione della regione di avvio delle attività invariante. Cioè noi abbiamo partecipato a delle conferenze di servizi dove io ho messo l'ufficio tecnico del Comune di Monopoli a disposizione della regione in un clima di collaborazione che confermo essere rimasto tale. Dopodiché se c'è da fare una variante, la variante va fatta in modo puntuale. Io faccio una domanda al consigliere regionale e a tutta la regione. Ma qual è l'area su cui nasce l'ospedale e su cui dovremmo fare la variante? Voi volete scommettere com'è che nessuno è in grado di rispondere a questa domanda? Perché devono ancora fare i sopralluoghi per rendersi conto di questo? Sulla vicenda è intervenuto anche Fabiano Amati, padre putativo del progetto, già tirato in causa da Scianaro, che ha chiarito che il nuovo ospedale Fasano Monopoli è la storia di un progetto concepito, finanziato e in via di progettazione per curare al meglio la salute dei cittadini. Punto e basta. Al momento tutto procede per il verso giusto ai sensi delle leggi dello Stato che anche il Comune di Monopoli rispetta è del cronoprogramma. Ai sensi della legge dei voti, maledetti voti e della speculazione elettorale invece, aggiunto Amati, c'è sempre qualcosa da dire, anche quando il miglior dire sarebbe tacere.